ma quadranti e quadrati hanno solo le n in più come differenza quadrati quadranti doc no doc questa è una scoperta assurda è assurdo è veramente assurdo se ci pensi cioè se ci pensi poi anche e come costata crostata quanto è costata da quella crostata no no abbiamo abbiamo scoperto ragazzi qualcosa che non dovevamo scoprire sicuramente fermateci